E' statisticamente dimostrato che internet viene utilizzato solamente da un 50% di utenti che ricercano informazioni di qualsiasi tipo. La televisione invece viene utilizzata dal 100% della popolazione, ma fino a poco tempo fa con un ruolo meramente passivo. Oggi non è più così. Uno straordinario progetto tecnologico realizzato dal gruppo informatico di TCA, grazie all'avvento del digitale terrestre, ha trasformato la televisione in un mezzo completamente nuovo ed interattivo. Il progetto di casatrentino.com è unico nel suo genere e si avvale in esclusiva di questa nuova straordinaria opportunità. Basta sottoscrivere l'abbonamento e registrarsi al portale casatrentino.com. Tutti i dati relativi agli immobili e alle opportunità da voi proposte ed inserite nel portale, da questo momento viaggiano online. Grazie alla nuova tecnologia interattiva, tutti i dati presenti in internet nel portale, comprese le fotografie, vengono automaticamente riportati in televisione. L'utilizzo è straordinariamente semplice. Basta avere un decoder con la sigla MHP, abilitato alla ricezione di questo tipo di segnali, o possedere un televisore di ultima generazione già predisposto, contraddistinto dalla presenza della sigla MHP. Attualmente in provincia di Trento, più della metà dei televisori o dei decoder installati è già predisposto. Una volta sintonizzati su TCA Trentino TV, bisogna premere il bottone rosso sul telecomando e aspettare qualche istante. A questo punto basta selezionare la voce Immobili. Scorrendo con le frecce sul telecomando o sul tasto OK, utilizzando il ricchissimo menu interattivo, l'utente può navigare nella ricerca che gli è più congeniale, selezionando l'immobile che gli interessa, seguendo vari criteri come il luogo, l'affitto o la vendita, la destinazione, la tipologia, la fascia di prezzo, le dimensioni e tantissime altre informazioni, oltre naturalmente ai riferimenti del venditore e anche immagini fotografiche. E se l'appartamento è stato venduto o affittato, nel momento in cui i dati sono aggiornati sul portale, automaticamente vengono aggiornati anche in televisione. Basta con le difficili ricerche fra migliaia di inserzioni e a tutto il tempo perso. Il software esegue la ricerca per te, trovando la tua soluzione con pochi clic, comodamente seduti sul divano di casa. CasaTrentino.com, da internet in tv, una nuova straordinaria opportunità per il vostro business.